ha respinto è grossa è uno strano affitamento di CR7 è finta di Cristiano Ronaldo si perde Cristiano Ronaldo prova anche da terra da Berardi e si ritrova la palla centralmente tra le mani non ha sfondato è Cristiano Ronaldo da mandare nel dimenticatore Cancelo Rogerio su Maggi non se l'aspettava Maggi che c'è convinto che il passaggio fosse destinato a un conto è già partito il traversone sbirgola Marlon consigli non rischi alla presa Cristiano Ronaldo perché tira l'esterno cercava ancora Cristiano Ronaldo ferma la palla Giuricic carica il destro ti viene deviato non è finita non è finita ma ti può puoi berardi e mi arriva straversone prova che dira fai un rimpallo non può arrivare non può arrivare Maggi contro l'area Cristiano Ronaldo è partito il cross Maggiucic ha provato l'assistenza Giuricic è troppo leggero scivolata di Locatelli regolare non proteggo gol di Dybala e poi Ferrari che la mette dentro la mette dentro per prendersi l'esultanza nel suo primo gol Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus momento storico per il grado bianco nero al cinquantesimo minuto Cristiano Ronaldo con di potenza non con una punizione ma di opportunismo e 1-0 Juventus sembrava in possesso difensivo del Sassuono la palla e invece corner D Dybala tentativa acrobatico rischia l'autore De Ferrari è come un falco dopo l'imbalzo sul palo non può nulla consiglio il sello al centro più avanti Cristiano Ronaldo servito da Ebrecià Cristiano Ronaldo sinistro ed è conchietta ha preso la via e l'ha messa nell'angolino lontano CR7 2 per lui e 2 Juventus sul Sassuono al sessantacinquesimo contropiede micidiale e in tutto questo c'è il merito di uno stop tutt'altro che facile dopo la scosta e di Emre Can che ha seguito l'azione ed ha servito non era facile in corsa alla perfezione Cristiano Ronaldo controllo e rasoiata mancina vincente Cristiano Ronaldo si porta sul livello di mangio non è non è